Ciao amici, un caro saluto dalla scuola di ballo sorriso, da Luigi e da Marisa. Allora, come tutto il mondo sta ballando questo nuovo ballo, dell'usarema, anche noi abbiamo cominciato a fare questo ballo. Allora, adesso vi farò vedere il tutorial dei passi di questo nuovo ballo, è semplicissimo, sono tre sequenze da otto. Mi metto di spalle e cominciamo a contare. Si parte con il piede sinistro e si va a contare quattro volte. Uno, due, tre, quattro. Si cambia il piede con il piede destro. Cinque, sei, sette, otto. Dunque, quattro passi con il piede destro, del sinistro quattro passi con il piede destro. Rifassando, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Seconda sequenza, sono un totale di tre sequenze. Dei piccoli santelli sul posto. Dunque, abbiamo finito con otto. E andiamo a fare uno, due, tre, quattro, cinque, mi sposto verso la mia destra. Cinque, sei, sette, otto. Finito la seconda coreografia. Dunque, facciamo, rifacciamo la prima coreografia e la seconda coreografia. Prima coreografia, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Da questa posizione, sempre andando verso destra, si ritorna verso sinistra contando quattro passi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E da qui se li fate uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E se li fate uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E si va avanti così, su tutte le parete, su tutti gli angoli e su tutte le parete. Io con questo vi saluto, vi do un gran saluto a tutti e soprattutto tutte. Salutiamo appunto tutti i nostri corsisti, il bello divertimento, ricordatevi, anche ricordatevi di iscrivervi al canale Scuola di Balo Sorriso YouTube e anche al canale Facebook Scuola di Balo Sorriso YouTube. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ci vediamo al prossimo video. Ciao!